Noi kakakille, benvenuti o bentornati in Finlandia. Qui la decima settimana dell'anno ci sono le vacanze invernali, molti finlandesi ne approfittano per farsi la settimana bianca. Quindi anche io questa settimana sarò in un cottage in Lapponia. Sto schiando. Puff, per la vita. Adesso sto andando a piedi a Muonio, sono circa 6 km, non fa freddo anche se sono in Lapponia, non ci sono molti gradi sotto zero, anzi distingue la ciacca dalla neve. Ho deciso di fare una cosa molto poco sensata, ovvero camminare mentre la neve. Volevo far vedere più da vicino. Certe cose non cambiano mai, Giulia Passione, Cassette della Posta, Lapponia Edition. Anche oggi mi do la camminata e facciamo una camminata di circa 4 km verso un certo punto re. Volevo far vedere più da vicino. Ho appena fatto la cosa più stuida della mia vita, che è stato a correre in salita su una neve. Ma questo bianco, questo bianco, sono tutti i laghi ghiacciati. Sto camminando all'indietro perché non mi voglio perdere neanche un centimetro. Arnazioni in salita, come ci all'indietro, come ci sono state, come ci sono state, come ci sono state, come ci sono state, come ci sono state. tukkü ura mi acaba per andare giù e laggiù con lo slittero e io sto per morire aiuto Ok, che bello, sono sopravvissuta allo slittino, adesso vado a farmi una bella sauna e la mia esperienza in Lapponia purtroppo è già finita, è stata una settimana breve ma senza. Non vi preoccupate, adesso iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace e ci vediamo presto in un prossimo episodio. NET DANCE!